87 grammi di hashish nascosti nel bagaglio che un giovane di origini albanesi trasportava con sé sul treno, quello delle 15.47 che da Milano lo stava portando in direzione di Tirano. Merito di Antrax, questo è il nome del cane antidroga in forze al nucleo mobile della compagnia della Guardia di Finanza di Tirano. L'operazione è portata a compimento nel tratto ferroviario nelle vicinanze di Sondrio e che ha portato anche al sequestro di pochi grammi di hashish trovati addosso ad altri due giovani, uno residente in provincia di Sondrio, l'altro in provincia di Milano, nell'ambito dei controlli programmati assieme alla squadra cinofili del gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso Como, di cui il pastore tedesco fa parte, per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Non è casuale il fatto che i controlli siano avvenuti in un orario durante il quale il treno è stipato di giovani provenienti dal capoluogo, molti dei quali studenti. Nei confronti del 27enne, senza precedenti penali e nel bagaglio del quale è stato rinvenuto l'involucro contenente i quasi 90 grammi di hashish, è scattata la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica del Tribunale di Sondrio. Per gli altri due giovani invece la segnalazione come assuntori di stupefacenti alle prefetture di competenza.